Voi sono informatici, diciamo, ci hai dato la possibilità di avere una prima esperienza di lavoro dove ci stiamo confrontati con un proprio cliente, ovvero voi, seguendovi, adattandoci alle vostre richieste, ascoltandovi a tutto. Quindi, durante questa esperienza, questa attività, ci siamo dovuti confrontare con voi improvvisandoci istruttori. Infatti, abbiamo seguito i rappresentanti dei vari circoli del Trentino insegnando loro come utilizzare il nostro sito, pubblicare articoli, foto dei vari eventi di tutta la comunità. Ovviamente, durante questa esperienza abbiamo avuto qualche difficoltà tecnica, però penso di poter dire in conclusione che questo è stato un bel progetto, una bella opinione di tutto questo, positiva. Grazie ancora.